Ciao amici, quello di oggi è un video speciale perché è in collaborazione con una bravissima youtuber che molti di voi conosceranno già, Pennypedia. Il suo è un canale di divulgazione storica con particolare attenzione verso le monarchie e le biografie dei grandi della storia, di cui è una grandissima esperta. E mai come in questo caso la sua collaborazione è preziosa perché la vita dell'attrice di cui parleremo oggi è idealmente divisa in due. La prima parte della sua vita è dedicata al cinema, la seconda al suo impegno come principessa di uno dei principati più famosi al mondo, il Principato di Monaco. Ovviamente stiamo parlando di Grace Kelly, la dea e icona di stile ed eleganza, l'attrice che all'apice della carriera lasciò tutto per sposare un principe. Ecco perché io e Penny abbiamo deciso di parlare di lei con due video distinti e da due punti di vista diversi, due video che sono da considerarsi l'uno il proseguio dell'altro. Su questo canale ripercorrerò la sua infanzia, i primi passi e gli anni del successo come attrice. In quello di Penny si parlerà della sua vita come principessa di Monaco, quindi quando finite qui correte a vedere il suo. E se invece venite dal canale di Penny e mi state guardando per la prima volta, benvenuti. E adesso cominciamo con il video. Grace Patricia Kelly nasce a Philadelphia, in Pennsylvania, il 12 novembre 1929. figlia terciogenita di John Brandon Kelly Senior e Margaret Catherine Meyer. La sua famiglia cattolica e di origine irlandese era una delle più inviste di Philadelphia. Il padre John B. Kelly, detto Jack, era un famoso canottiere, vincitore di tre medaglie olimpiche e che una volta ritiratosi dall'agonismo fondò una compagnia che produceva mattoni, che lo rese un ricco industriale. La madre Margaret, di origine tedesca, laureata in educazione fisica, era una docente universitaria e prima donna a coordinare le attività sportive delle ragazze del campus dell'Università di Philadelphia. La vita di Grace Kelly, come si può immaginare, non era stata programmata per il glamour dei servizi fotografici o per le luci della ribalta. La sua era una delle famiglie più rispettabili della città e da lei ci si aspettava che perseguisse le orme dei genitori, che si laureasse, che debuttasse in società, si sposasse con un buon partito e avesse dei figli, come si conveniva alle brave ragazze dell'alta borghesia di Philadelphia. Educate a essere mogli trofeo e se pensate che per il padre John le attrici erano solo donnacce di strada, potete immaginare quanto poco pensasse alla figlia come futura star di Hollywood. Ma Grace, dal carattere volitivo e assolutamente fuori dagli schemi, almeno quelli dei suoi genitori, sparigliò ogni imposizione paterna. Grace però inizialmente camminò sui binari imposti gli dal padre. Frequentò quindi le migliori scuole di Philadelphia, come la Raveny Academy, una scuola femminile cattolica. Ed è proprio alla Raveny che la giovane Grace sbocciò, rivelando a tutti la sua straordinaria bellezza ed eleganza. E bisogna proprio dirlo, ma il nome fu più azzeccato per qualcuno. Grace aveva una grazia innata e spiccava fra tutte le sue compagne. E in barba ai desideri dei suoi genitori a 12 anni debuttò in una commedia scolastica e le piacque così tanto che iniziò a introdursi nell'ambiente della moda e della recitazione. Divenne una richiestissima mannequin e come modella era semplicemente perfetta. Il suo corpo filiforme, la sua postura, il suo viso incantevole e una fotogenia incredibile fecero di lei una star della moda. Tanto che nell'annuario scolastico dell'ultimo anno di scuola alla Stevens School, sotto al suo nome vi era scritto, famosa star del teatro e dello schermo. Con queste premesse la giovanissima Grace iniziò ad accrezzare il sogno di poter un giorno essere una star e subito dopo il diploma nel 1947 iniziò a fare i primi passi nel teatro e nella tv. I suoi interessi erano sempre meno legati allo studio, tanto più che non venne accettata al Bennington College per i suoi scarsi punteggi in matematica, con grande grandissimo disappunto del padre, che come in ogni favola che si rispetti era il suo più grande eroe. Un eroe però che la futura attrice non temette di scontentare pur di seguire i suoi sogni, non solo quello di diventare attrice ma anche di sposare qualcuno che non era lontanamente nei canoni imposti dall'epoca. Appena diciottenne si innamorò follemente di un suo insegnante di recitazione, Don Richardson. All'epoca ventisettenne è già separato, seppur ufficialmente ancora sposato, e per giunta ebreo. I due iniziarono un'appassionante relazione, talmente innamorati da presentarsi al cospetto dei genitori di lei per ufficializzare il loro fidanzamento, che ovviamente i genitori di Grace disapprovarono, sia perché era già stato sposato, sia perché non era cattolico. Secondo il libro Le bionde di Hitchcock di Lawrence Lamer, la relazione finì non solo per la disapprovazione dei genitori, ma anche perché la giovane Grace, per quanto innamorata, non era del tutto indifferente alle attenzioni maschili. Ad esempio intrecciò una relazione parallela con il direttore del World of Astoria Hotel di New York, ma anche con una nostra vecchia conoscenza, il miliardario Ali Khan sposato a un'altra diva di Hollywood, Rita Hayworth, di cui ho parlato in questo video. Io non ho idea se questo libro sia un tripudio di gossip senza affondamento, ma nel libro si racconta che una sera dopo una cena romantica con Richardson, Grace si sarebbe messa a sfoggiare una serie di abiti uno più bello dell'altro. Abiti che la ragazza non avrebbe potuto permettersi visto l'appannaggio che le passava il padre, ma a colpire Richardson fu soprattutto un bracciale di smeraldi e sempre nel libro si dice che l'uomo capì subito che c'era di mezzo Ali Khan, famoso per regalare bracciali di smeraldi alle sue amanti. Richardson, inferocito, avrebbe strappato il bracciale dal polso della fidanzata e l'avrebbe gettato dentro un acquario mettendo fine alla relazione. Questo avveniva nel 49, ma tornando alla sua carriera nel 1947 firmò un contratto con una delle agenzie di moda più famose da l'America, la Walter Thornton Model Agency, con cui verrà lanciata nell'Olimpo della Moda. Il suo vero lascia passare per Hollywood. Nel 1949 riuscì ad entrare all'American Academy of Dramatic Arts di New York, grazie a un monologo tratto da un dramma di George Kelly, zio dell'attrice e vincitore di un premio Pulitzer come drammaturgo, e che ne fu di grande sostegno per entrare nell'establishment di New York, oltre che diventare il suo mentore. Debutto a Broadway nel dramma Il padre di John Strindberg. Fu un periodo molto bello per Grace, stava vivendo il suo sogno, ma a differenza dei suoi compagni di studio non doveva vivere in una Stamberga piena di muffa e topi, ma neanche in un bel appartamento sulla quinta strada. Il padre infatti le impose di vivere in un dormitorio femminile di lusso, l'hotel Barbizon a Manhattan. Nel frattempo continuava a lavorare come modella, ma non solo. Era impegnata anche in diverse produzioni televisive e teatrali, quella che si dice una vera gavetta, che le diede una grandissima sicurezza davanti alla macchina da presa. Interpretò moltissimi ruoli dei vari sceneggiati che andavano in onda, e piano piano il suo nome si fece strada fra moltissimi altri nomi di attori e attrici in cerca di un posto al sole come lei. Ben presto si rese conto che più del teatro ad attirarla maggiormente era la macchina da presa, le luci, in una parola il cinema. E in effetti un viso come quello di Grace Kelly sembrava proprio fatto per il cinema, più che per il teatro, e per quanto amasse il palcoscenico non aveva la presenza scenica giusta, nella voce che avrebbe dovuto avere un'attrice di teatro. Esordì al cinema nel 1951 in un piccolo ruolo nel film La quattordicesima ora, prodotto dalla 20th Century Fox. A contendersi il ruolo un'altra giovanissima attrice in erba, Anne Bancroft, che però venne scartata. La parte di Grace era piccola e marginale, e quasi nessuno si accorse di lei, però quell'unica scena mise in evidenza una sua caratteristica, la luce che riusciva a emanare il suo sguardo sognante. In questo film interpretava una vedova nello studio di un avvocato che guardava fuori da una finestra. Niente più che una scena, ma di grande grandissima intensità. Sul set Grace verrà notata però da un certo Gary Cooper, quello che sarà il suo partner sulla scena nel film successivo. E che film? Uno dei maggiori successi nella storia del western Mezzogiorno di Fuoco del 1952, diretto dal regista premio Oscar Fred Zinneman. Sull'ingaggio della Kelly nel film ci sono due versioni. In una si dice che fu il produttore Stanley Kramer a volerla dopo averla vista in uno spettacolo di Broadway. Lei, così bionda, sofisticata, sembrava il perfetto prototipo della ragazza dei piani alti e la pensò al fianco di Gary Cooper nel ruolo di sua moglie. Un'altra versione voleva Cooper come l'artefice dell'ingaggio. Sarebbe stato lui a proporla ai produttori e a Zinneman, riuscendo a spuntarla e non è difficile immaginarlo visto lo strapotere che Cooper aveva ad Hollywood. Comunque siano andate le cose, sta di fatto che Grace fu ritenuta perfetta come partner di Cooper, nonostante i 30 anni di differenza fra i due. 50 lui, appena 21 lei. Sul set si rumoreggiava di una loro relazione, ma nessun rumor si venne mai confermato. Ma pare che Grace avesse preso una sbandata per Cooper. Ad ogni modo, il film aveva una tabella di marcia serratissima. 28 giorni appena. I ritmi serrati e il caldo soffocante della California resero la lavorazione piuttosto difficile, senza contare i contrasti fra Kramer e Carl Foreman, lo sceneggiatore, a quel tempo iscritto alla Blacklist della NPA, l'associazione per la conservazione degli ideali americani, con a capo l'attore americano simbolo del western, John Wayne. Foreman era un comunista, quindi nemico della patria, e tanto la sua presenza era ingombrante che pur rimanendo nel progetto non venne citato nei credits. Il film ebbe un grandissimo successo e sebbene la figura che spiccò maggiormente fu quella di Cooper, Grace Kelly non passò inosservata. Il film la catapultò nell'Olimpo delle stare emergenti di Hollywood e fu subito evidente una cosa. La macchina da presa l'adorava e riusciva a catturare il lampo di luce che emanava il suo sguardo. Mezzogiorno di fuoco la traghettò verso il suo terzo film, insieme a un altro straordinario divo di Hollywood, Clark Gable, protagonista insieme ad Ava Garner del film Mogambo del 1953. In realtà nel ruolo che fu della Kelly avrebbe dovuto esserci Jean Terny, che però abbandonò il progetto all'ultimo minuto. Quando fu chiamata per impiazzare la Terny, Grace non se lo fece dire due volte. Tre, le ragioni per cui accettò senza pensarci. Il regista John Ford, Clark Gable, è un viaggio tutto pagato in Africa. In un'intervista anni dopo dirà, se l'avessero girato in Arizona non avrei accettato, ma che per un certo tempo fu ritenuto significasse the greatest, cioè il più grande. Ad ogni modo il film ebbe anche questo un grande successo e per Grace Kelly arrivò anche la prima vittoria ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista, oltre che la prima candidatura agli Academy Award e alla cui cerimonia di premiazione giunse insieme a Clark Gable con cui si diceva avesse una relazione. Il gossip attorno alla vita sentimentale di Grace Kelly divenne ben presto esasperante, ma lei sembrava sempre uscirne indenne. La sua reputazione rimase intatta e lei stessa sembrava intoccabile. Anche se i pettegolezzi attorno alla sua vita amorosa non smetteranno mai, si dice infatti che l'attrice intrattenesse relazioni con quasi tutti i suoi partner maschili. Gable insomma sarà solo il primo di una lunga lista di flirt da set, a riprova del fatto che dietro l'apparenza algida si nascondesse in realtà una donna appassionale e assolutamente fuori dagli schemi. Insieme a Mogambo accettò anche di entrare a far parte della grande famiglia della Metro Goldie Meyer, per cui firmò un contratto di sette anni, in un momento in cui l'idea dei contratti che legavano gli attori alle major andava sempre più scemando per essere sostituito da una concezione più moderna del ruolo di attore, inteso come libero professionista che sceglieva i ruoli in base alle proprie esigenze e preferenze. Dopo Mogambo e con il benestare della MGM accettò di lavorare per lo sceneggiato televisivo The Way of an Eagle e poi Grace Kelly incontrò lui, il suo vero pigmalione, il regista che più di ogni altro saprà tirare fuori tutte le sfumature della recitazione di Grace Kelly, il maestro del brivido Alfred Hitchcock, che lo vuole per uno dei suoi film più importanti ed emblematici, in perfetto stile Hitchcock, Il Delitto Perfetto del 1954, il film che fece da apripista un filone di genere basato sulla suspense e sul colpo di scena. Insieme a lei nel ruolo del protagonista maschile Ray Milland, anche lui presunto flirt dell'attrice e che ve lo dica a fare. Il film ambientato a Londra racconta di due conigi all'apparenza felici, lei ricca ereditiera, lui ex tennista che commercia in articoli sportivi. Quando il marito scopre la tresca della moglie con un mediocre scrittore di gialli, decide di farla fuori per ereditare le sue ricchezze, pianificando però quello che sulla carta sarebbe stato il delitto perfetto. Lo pianifica per un anno intero prima di metterlo in pratica, avvalendosi della collaborazione di un sicario, il balordo Swan. Un uomo violento è che vive di espedienti, ma non esattamente un killer professionista. Qualcosa però in quel piano apparentemente perfetto va storto, e le cose andranno in un modo assolutamente inaspettato. È un film davvero bellissimo che dovreste vedere, se non l'avete fatto. Grace Kelly si trovò divinamente con Hitchcock, e nonostante la proverbiale antipatia che il regista provava per la maggior parte delle sue attrici, trovò in Grace Kelly l'incarnazione della sua musa ideale, bionda, apparentemente fredda e distaccata, ma con un gran fuoco dentro, che poteva accendersi da un momento all'altro. Un vulcano della cima innevata, ma che soprattutto appariva perfetta sullo schermo, semplicemente perfetta, con quello sguardo algido, con la postura eretta, col suo essere sofisticata, col suo modo di incedere camminando come se fluttuasse nell'aria, guardando tutti dall'alto in basso, ma nello stesso tempo sensuale, ma di una sensualità sfuggente e inafferrabile. Per spiegare in maniera efficace questo concetto, Hitchcock usò uno simoro che rimase nella storia, ghiaccio bollente. Entrambi saranno fondamentali per la carriera dell'altro, ma sarà soprattutto il loro rapporto a rappresentare un unicum nella storia del cinema, due apposti che si attraevano, due anime gemelle connesse mentalmente e che si compensavano a vicenda, molto più che un mentore e un allieva. E poi, vogliamo parlare degli abiti iconici indossati da Grace Kelly, l'abito rosso in pizzo, i cappellini completi in perfetto stile Grace Kelly, uno stile che diventerà iconico e inimitabile. Anche per i costumi Hitch seguì un preciso schema, più la faccenda si faceva torbida e inquietante, più gli abiti di Grace Kelly si facevano austeri e scuri. Il sodalizio fra i due continua con il film successivo, La finestra sul cortile, insieme a un altro attore feticcio di Hitch, James Stewart, nei panni di uno scrittore momentaneamente in sedia a rotelle, che passa le sue giornate annoiandosi in casa, fino a che non si procura un binocolo con il quale, per ammazzare il tempo, si metterà a spiare i suoi vicini che per il gran caldo tenevano le finestre spalancate. Un giorno, però, crederà di assistere a un omicidio. Un film che, nella migliore tradizione Hitchcockiana, racconta di un intrigo, di un'ossessione, ricco di colpi di scena e suspense. Grace Kelly recita nel ruolo della fidanzata di Stewart. E pur di lavorare di nuovo per Hitchcock, rinunciò a un ruolo nel film fronte del porto, insieme a Marlon Brando. E questo perché, durante la lavorazione di Delitto Perfetto, Hitch le aveva parlato quasi ininterrottamente del nuovo film che avrebbe girato subito dopo, La finestra sul cortile, e quando le offrì il ruolo non poter rifiutare. La scena in cui appare per la prima volta nel film è forse una delle più di impatto della storia del cinema. Lei che si avvicina alla macchina da presa, la cui prospettiva è quella di un James Stewart dormiente sulla sedia, e poi un primo piano sempre più ravvicinato sul suo viso, in una scena dove tutto è in ombra tranne il suo volto, con un risultato sinistro e allo stesso tempo ammaliante, come se quello sguardo nascondesse chissà quale intrigo o segreto, per finire con un primissimo piano dei loro profili che si chiudono in un bacio. E questa volta l'effetto è sensuale. L'uso delle luci, specie per catturare la straordinaria bellezza di Grace Kelly, è sapiente. Esse furono posizionate in modo da rendere l'atmosfera eterea e la Kelly quasi una dea fluttuante. Il rapporto fra Stewart e Grace Kelly è da considerarsi un po' ambiguo. Egli pensava che fosse bellissima, ma si avvertiva fra di loro un certo distacco, una freddezza che si traduceva anche sullo schermo. I loro forse sono i baci più freddi mai visti, ma quest'amici era assolutamente congeniale alla personalità dei loro rispettivi personaggi. Anche loro lontani, freddi, distaccati. Lei una socialite newyorkese, lui un annoiato scrittore ossessionato dallo spiare i vicini e che non vuole in alcun modo sposare la sua bellissima fidanzata, tanto da evitare in ogni modo di parlare anche solo di matrimonio. Una sorta di paranoia e di fuga che si traduce in quella ossessione per i vicini. E chissà se il distacco di Stewart è che lei non fosse anche quello assolutamente voluto. Sempre nel 1954 è la protagonista assoluta di uno dei film più importanti della sua carriera, La ragazza di campagna, e che nasce anche questa volta dalla rinuncia di un'altra attrice Jennifer Jones, la deliziosa moglie di David Setsnik che rimase incinta prima dell'inizio delle riprese. Il ruolo che le fece vincere il suo primo e unico Oscar della carriera contro la super favorita Judy Garland, candidata per il film è nata una stella. Al suo fianco Bing Crosby e William Holden. Ragazza di campagna racconta la storia di Frank, un attore in declino alle prese con una dipendenza da alcol, sposato a una ragazza di nome Georgie, e con una sola chance di riacciuffare la sua carriera, un musical importante. Ma il suo ingaggio è contrastato dal produttore che vede in Frank un uomo alcolizzato e completamente succube della moglie Georgie. Una ragazza semplice e innamorata. Una ragazza di campagna come da titolo, interpretato da Grace Kelly, che non capisce il mondo dello spettacolo e sembra voler contrastare la carriera del marito. Ma non è così. I problemi di Frank e il suo terrore del palco sono ben più profondi e radicati. E piano piano il produttore lo capisce e si lascia affascinare da Georgie, innescando una serie di situazioni drammatiche. Ottenere quel ruolo non fu semplice per Grace Kelly, perché aveva un contratto con la MGM e il film era distribuito dalla Paramount. Ma lottò con tutta se stessa per farcela, perché riconosceva che quel ruolo l'avrebbe esaltata non solo come esempio di attrice glamour, ma anche di spessore. Infatti Georgie è una ragazza per cui la moda e il glamour non significano assolutamente nulla. Georgie non si trucca, veste abiti semplici. La sua intera resistenza è semplice, sposata a un uomo alcolizzato e amante di un altro, lontanissimo da lei e dal suo mondo. Per Grace quel ruolo rappresentava una sfida a cui non voleva rinunciare, ma la MGM non voleva in nessun modo prestarla alla Major concorrente, e Grace Kelly sfoderò tutta la sua grinta e determinazione minacciando la Major di strappare il contratto. E la MGM fece un passo indietro e lasciò che girasse il film. Il che la diceva lunga sul valore e sul potere di Grace Kelly sulla Major, tanto da cederla piuttosto che perderla. Grace Kelly di una lungimiranza invidiabile alla fine non solo tenne il ruolo, mantenendo il contratto con la MGM, ma ebbe la proclamazione a stella indiscussa di Hollywood. La protagonista femminile per antonomasia, che in quell'anno magico che fu il 1954 girerà ben 5 film e otterrà un Oscar. E c'è un retroscena curioso dietro alla vittoria inaspettata di Grace Kelly. Sì, perché tutti pensavano che a vincerlo sarebbe stato la Garland, incantevole protagonista di È nata una stella, che in quel momento si trovava ricoverata in ospedale. Essendo la favorita, i reporter e i fotoreporter erano lì davanti in ingresso dell'ospedale per immortalare l'attrice vincente. Ma quando arrivò loro la soffiata, che a vincere sarebbe stata la Kelly, smontarono baracche e burattini e corsero tutti all'Archeio Pantages Theater, dove si svolgeva la cerimonia. Ma è il 1955 l'anno in cui tutto per l'attrice cambierà. L'anno di caccia al ladro, terzo e ultimo film con Hitchcock. È l'anno in cui conoscerà l'uomo del suo destino, colui che la renderà principessa di un piccolissimo principato nel cuore dell'Europa, il Principato di Monaco. Ma andiamo con ordine e partiamo da Caccia al Ladro, girato in costa azzurra insieme al leading man per eccellenza, Carrie Grant, di cui abbiamo parlato in un video. Anche per questo film fu necessario che la MGM desse il suo consenso e così dopo il Lascia Passare Grace volò in costa azzurra, lì dove si giravano alcune scene in esterna del film. Una commedia romantica che racconta di un ladro acrobata chiamato il gatto, ormai in pensione, e che viene accusato di essere ancora nel giro per via dei sempre più numerosi furti che portano alla firma del gatto. Così, per ripulire del tutto la sua reputazione e scaggionarsi da quell'accusa, si mette gli stessi alla caccia del falso gatto e del vero ladro, colui che aveva ripulito le tasche di gente ricchissima in visita in costa azzurra, inclusa la vedova di un ricco petroliere e la sua giovane e bellissima figlia, interpretata da Grace Kelly, che collaborerà con lui per la cattura del vero gatto, con un finale da film romantico. Anche se il mood del film è caustico, ironico e tremendamente divertente, senza volerlo essere. Un film definito minore tra quelli del maestro del brivido, ma che è tremendamente scocchiano, secondo me, pur senza gli elementi tipici del suo cinema. Celebre è la scena in cui l'attrice guida scatenata sui tornanti della Moyenne Corniche a Monte Carlo. Tra l'altro c'è da dire una cosa, i tornanti in cui la principessa, la futura principessa morirà, non sono quelli della Moyenne Corniche come si è portati a pensare, ma diciamo che è il tornante precedente. In questo film appare semplicemente divina, luminosa, graziata, accattivante, divertente e tremendamente affascinante. Famosa anche la scena del ballo in costume, con l'apparizione della Kelly in un abito dorato sfarzosissimo, che addosso ad altri sarebbe risultato semplicemente pacchiano, ma che indossato da lei ruba la scena a tutto il resto. Quei pochi giorni in costa azzurra le cambieranno per sempre la vita, perché lì farà la conoscenza di uno dei rampoli più ambiti della monarchia europea, il principe Ranieri III di Monaco. Non era la prima volta che Grace Kelly riceveva le attenzioni di persone tanto influenti. Era accaduto con lo scia di Persia, Mohamed Reza Palavi, che la corteggiò a lungo e la riempì di gioielli per convincerla a sposarlo, ma senza mai riuscirci. E, secondo una biografia non autorizzata sull'attrice e futura principessa, pare che in quel periodo fosse fidanzata a uno stilista di moda molto quotato, Oleg Cassini, persona però non gradita ai genitori di Grace che, però infischiandosene della loro approvazione, proposa a Cassini di sposarsi in gran segreto. Poi però Grace si ammalò e, dopo essersi ripresa, Oleg capì che i genitori avevano avuto la meglio sul volere della figlia. Mesi dopo, Grace lo chiamerà per comunicargli che era in procinto di sposare Ranieri III, che nel 1955 aveva 33 anni e, come ogni principe che si rispetti, era in cerca di una moglie. Nel 1952 Ranieri III accarezzò l'idea di sposare l'attrice francese Giselle Pascal, ma era una relazione destinata a fallire, poiché dopo un controllo venne fuori che Giselle era sterile. E per un principe il cui compito principale è dare ai sudditi un'erede, avere dei figli era un fattore imprescindibile. Alla fine però la diagnosi risultò sbagliata perché in effetti la Pascal ebbe una figlia. Ma prima di innamorarsi di Grace Kelly, un ricco armatore greco che di nome faceva Onassis, mise in testa all'attrice Marilyn Monroe di poter conquistare l'esigente principe. Marilyn accettò la sfida e disse Dammi due giorni da sola con lui e vedrai che vorrà sposarmi. Ma in realtà l'attrice non aveva alcuna intenzione, diciamo che aveva ben altri problemi e la cosa finì lì. Ma perché il principe Ranieri voleva pescare nel forziere delle attrici di Hollywood? Perché non una delle tante ragazze figlie di teste coronate in giro per l'Europa? Si dice che il motivo risiedesse nella decadenza in cui il principato era caduto negli ultimi anni e qualcuno suggerì lui che trovare una moglie famosa avrebbe riportato il principato ai vecchi fasti. Vero o no? Non c'è dato saperlo. Grace e Ranieri III si incontrarono durante un servizio fotografico al palazzo del principato. Il resto non solo è storia, ma ve lo racconterà Penny nel suo video. Facciamo quindi un passo avanti e arriviamo al momento in cui Grace Kelly, fidanzata al principe Ranieri, deve anche, di contro, rinunciare alla sua carriera nel cinema. Ma per contratto le rimanevano due film ancora da girare e li girerà da promessa sposa e forse chissà con un po' di rimpianto perciò acquistava rinunciando a soli cinque anni dal suo debutto. Il primo di questi film è il Cigno del 1956, nel ruolo pensate un po' di una principessa europea al fianco di Alec Guinness e Louis Jordan. Nello stesso anno girò il suo ultimo film, quello che è Sanchi, la definitiva uscita dalle scene, all'apice della carriera, ad appena 27 anni. Il musical Ice Society, insieme a Bing Crosby e Frank Sinatra, nel ruolo di Tracy Samantha Lord, contessa da due uomini e che in origine era stato pensato per Elizabeth Taylor, che però rifiutò. High Society è il canto del Cigno di Grace Kelly, è forse la migliore uscita di scena di sempre e che in qualche modo la ricollegava ai suoi inizi, a quelli di A Philadelphia Story, che l'attrice interpretò a teatro agli inizi della sua carriera. Nel film, tra l'altro, l'attrice si diletta a cantare. In realtà, la sua voce non fu ritenuta adatta e venne doppiata, ma rimase intatta la magia di quell'ultima prova d'attrice, prima di incamminarsi verso una navata e verso una nuova vita senza rimpianti, ma forse con un pizzico di nostalgia. E io, amici, vi lascio qui in questo mio racconto, perché il resto della vita di questa straordinaria attrice, che, come un fulmine assolcato ai cieli di Hollywood, ve la racconterà Penny nel suo canale Pennypedia. Da lei saprete il retroscena del suo fidanzamento e del suo matrimonio, e saprete anche della sua tragica e prematura fine. Quindi vi lascio così e vi rimando al suo video, il cui link lo troverete nell'info box. Ovviamente, se volete iscrivervi a questo canale e se venite dal canale di Penny e volete iscrivervi al canale, fatelo pure, così non vi perderete le prossime biografie. E se volete seguirmi anche su Instagram, potete farlo alla pagina La Conta Storie. E ci vediamo sempre qui a The Hollywood Boulevard. Ciao!